Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Insieme nello scorso weekend hanno vinto l'al 100 km dei campioni giocando in casa nel ranch di Tavuglia. Loro sono Valentino Rossi e Luca Marini. Fratelli, da una parte la leggenda vivente della MotoGP, dall'altra il talento che cerca di esplodere nell'Olimpo della classe regina. Per farlo il minore della famiglia Rossi cerca fortuna in onda lasciando casa, il team Verona 46 accettando la sfida di riportare in alto lo storico marchio giapponese rimasto orfano del suo trascinato Mark Marquez. Proprio in queste ore Luca Marini a pochi giorni dalla presentazione del suo team HRC ha svelato un retroscena sul suo passaggio dalla Ducati a Honda che riguarda proprio Valentino Rossi. Una sfida. Andare in onda nel momento peggiore della scuderia giapponese non deve essere stato facile per Luca Marini. Ha lasciato la moto migliore, la Ducati, seppur in un team satellite ma ha ponderato il tutto il fratello di Valentino Rossi che ha i primi dissapori tra Marquez e la Honda con le indiscrezioni sulla fuga dello spagnolo verso Borgo Panigale. Ha colto la palla al balzo e di fatti si è proposto alla scuderia nipponica. In un'intervista al podcast Poro Rejas, Marini ha detto «Credo di essere il pilota giusto per Honda e penso anche che, per me, Honda sia la squadra ideale perché è un sogno, è come andare a giocare per il Real Madrid o il Barcellona, è spettacolare». Andare in onda sarebbe un sogno, aveva detto Luca Marini in tempi non sospetti a fine stagione scorsa. Non sarà però facile per il giovane pilota, fratello di Rossi, che ora avrà anche un altro fardello da portare, essere il pilota di punta di una scuderia, di un team storico nel momento più difficile della sua storia recente in MotoGP. Mire Marc Marquez sono caduti tante, troppe volte, sicuramente molte di più di quanto non siano stati competitivi per la vittoria, cioè quasi mai. La palla, anzi la Moto RC 213 V scorbutica come non mai, passa nelle mani di Luca Marini. Dopo tre anni in MotoGP a bordo della Desmo 16 e un 2023 degno di nota con due podi e due pole, il numero 10 intraprende una nuova sfida in quella che promette di essere una trama vincente per tutta la prossima stagione 2024. Sicuramente in questo momento il pacchetto tecnico della Honda non è il migliore, ma con l'esperienza che ho in MotoGP con la Ducati e con tutto quello che posso dare alla Honda con i miei feedback, in breve tempo lotteremo di nuovo per salire sul podio. MotoGP, Marini, Valentino Rossi è la prima persona a cui ho chiesto consiglio. Marini sulla scia di Rossi, Dovizioso e Biaggi. Fin dalla sua nascita nel 1995 come struttura di prima classe nel moto mondiale, il Repsol Honda Team ha avuto tre affermati piloti italiani che alla fine si sono guadagnati lo status di leggende della MotoGP, Max Biaggi, Andrea Dovizioso e ovviamente Valentino Rossi. Proprio al dottore, suo fratello, Luca Marini ha svelato di essersi rivolto per chiedere consigli appena ha intravisto l'opportunità di andare a correre per il team ufficiale Honda. La prima persona che ho chiamato è stata mio fratello, è una persona di grande esperienza e intelligenza. Gli ho spiegato cosa avevo dentro.